Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ci siamo ritornati qui su Rainbow Six Siege In una partita classificata artificieri Ho preso cavera raga perchè non la uso da un sacco di tempo Tra l'altro lì Dai l'avevo preso Oh zio non ti metto davanti Allora qua Allora Eh vabbè un filo spianto lo potevo mettere là in mezzo alle scale Però vabbè Anzi sei tu Allora Qui non c'è nessuno Sono sopra il tetti Sì Sono qua Ok Andiamo un po' No 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 da dove Ma ro Guarda questo dove stava Eh raga hanno spaccato di là mi sono distratto Cioè Sapevo pure che stava qua Grazie Questo è il fatto perchè ho controllato le telecamere Viste che hanno spaccato la Non c'ho proprio pensato C'ho proprio pensato C'ho proprio messo scarso No Il tuo amico Dai su Ce la potete fare Madonna raga sta lì Ma raga giocano senza cuffie Giocano senza cuffie Nessuno si è accorto che c'era glaz Cioè Pure io Non me ne era accorto che stava ancora lì Purtroppo non ho spaccato Va bene Ok Spera che mi facciano sponchire Ah raga comunque Ho dovuto prendere per forza termite Sono stato forzato Perchè avevano preso sia toucher E sia twitch Prima ne avevano preso anche twitch Allora sono stato appunto forzato a prendere termite Perchè se no Saravano presi inutilmente Anche se raga comunque non è che mi piace Tanto creare i pariti con termite e i bane Guarda là guarda Allora Molte volte Allora ci vediamo un attimo lì Dai spacca qua amaro Vabbè raga Cioè Stavo dormendo Che c'è posso fa Mi ha fregato Stava in culà Porca vacca Pensavo che non c'era nessuno Famaro Eh minchia Guarda guarda raga Non è riuscita manco a ucciderla Non è riuscita Raga Cioè sta pochissima di vita Non è riuscita Non è riuscita a ucciderla No vabbè raga Però a volte la squadra Io ho sbagliato Però se puoi fare di meglio Se puoi ucciderla facilmente Uccidela caracchio Ho sbagliato anche io Che sono stato scarso qua Però porca vacca Ma non è possibile Non sei manco riuscita a ucciderla Cioè Guardatela raga Un altro headshot Ha fatto mira Vabbè A parte che è la più forte del gruppo Con questo c'è da dire No vabbè raga no Io voglio sapere Con quanta vita è rimasta Mira raga Perché stava in culà Non l'ha uccisa Io non lo so Stava sparando a me Stava sparando tutto il tempo Che vuoi per prenderlo No Hai rimasto con 4-5 di vita IQ Vabbè raga Cioè poi ditemi sotto nei commenti Se è stato scarso Facciamo così Allora Io resto in base raga Non mi muovo assolutamente Ma mi devo Appunto impegnare tantissimo Talmente tanto Che non avete proprio idea Bravi Dai a me piace questo A me piace Sì Proviamo a fare una bella Sponkill Stanno arrivando Via Sta di qua zio C'è ma Maronna Santa Raga Andate in bomba Che piazzano Che palle Interroga Ok Bravi Brava cavera Raga Comunque ho fatto due kill Ottimissime Cioè Sono stato bravo Ho fatto fuori Sia a montagne Che a blackbeard Che io l'odio tantissimo Perché ci muoio sempre Mara raga Belle kill Perché sono stato veloce veloce Mi sono incazzato raga A volte quando mi incazzo Faccio belle cose Beh 2 a 1 Ci sta alla fine Dai Allora Vediamo Di prendere un buon operatore Ovviamente Perché Se no qua Cioè Nessuno si sceglie A termite oibana Oh Basta raga Io non lo prendo Cioè Perché Non riesco a giocare con loro Cioè Sono operatori che Non mi piace l'arma Vado con Twitch Cioè Me lo fotto proprio Siete voi a cambiare A cambiare operatori Facciamo di questo Allora Allora Vado un attimo ad aprire Anzi Non le avro Perché sinceramente Dai Mara Dai Ma che palle Marò Nooo Mi si cosa di glazze Che palle Stanno in base Che Che Cosa faccio Marò Ma quelli là muoiono Ma che ce le posso fare Questi mi corrono a press Dai Ti ho colpito in testa Che palle No No Nien che il drone Mi sono scordato Marò Mancano 15 secondi Nooo Mannaggia tua madre Mannaggia Non ci credo Non ci credo Marò 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 Mi 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 mirò Un'altra volta Ma che palle Guarda la raga Sta giocando solo lui Marò Fa L'avevo sentito a destra Per questo Sono andato cattivo Marò le spaccate si è andato si è andato non butto la terra è fuori mamma mia ho rischiato eh raga perchè l'ho smirato qua l'ho colpito vabbè potevo andare tranquillamente raga tacere tiene caviera dove vicino a lui non se ne è reso neanche conto sa uno qua sopra ma sta ancora lì raga io non lo so ne vado direttamente ho sentito uno raga e che palle mamma mia però loro sparano raga non sento l'ho sentito vai da chi vabbè abbiamo vinto basta fati raga mi stavate facendo preoccupare cioè mamma mia questo qua è arrivato ora vabbè raga ho fatto schifo è un po' fatto schifo sfottivo per lo più compagni questo qua si è preso sempre solo toucher vabbè si vede raga che gli piace non lo so io comunque so primo me lo merito ma poco dai vabbè signori niente io spero che questo video vi sia piaciuto ora vedo un attimo di editarlo e tutto quanto e di caricarvelo lasciate un bel like se almeno vi ho intrattenuto raga almeno questo iscrivetevi al canale commentate condividete e noi ci vediamo a un prossimo video bella